Quest'anno siamo giunti alla settima edizione del Rock Film Festival e sono anche i dieci anni degli Alimentari, quindi è una data molto importante per noi. Per la prima volta il Rock Film Festival ha una sezione a tema, che è appunto l'incontro. Sono incontri d'autore, infatti, oltre alle altre categorie, nuove prospettive, sguardi d'autore, e si fa agli anni 25. Il tema dell'incontro è stato scelto sempre da il direttore artistico, Giovanni Pontanella, che in tutti gli anni appunto ci regala un tema molto forte, sul quale fa riflettere noi e tutti gli auguri. Quest'anno avremo anche la mattinata con le scuole, che non è una tradizione, però speriamo che lo diventi, quest'anno è il secondo anno consecutivo che la facciamo, e avverrà di sabato mattina e sarà un incontro chiuso, perché appunto è la mattina di recato alle scuole. Il festival durerà dal 6 di dicembre all'8 dicembre, con la serata conclusiva, che vedrà appunto molti autori presentarsi. Fortunatamente quest'anno abbiamo una grande maggioranza di autori venuti proprio a presentare il loro film, a parlarci di loro, nonostante le tre serate. Quindi siamo molto felici di questo. Quindi vi aspettiamo il 6 di dicembre all'Oditorium Le Fornaci a Terra Nova, alle ore 20.00 per il brindisi iniziale. E domenica 8, sempre alle 21.00 per la serata conclusiva, con le prevenzioni. Grazie.